Si può accendere anche questa luce qui? C'è. Grazie. Om Namo Bhagavateva Sudevaya Om Namo Bhagavateva Sudevaya Leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, canto quinto capitolo 18 verso numero 9 Quindi lo posso leggere, se lo leggiamo insieme, ok Svasti, Astut, Vishvasya, Kalaha, Prasidatam, Dhyayantu, Bhutani, Sivan, Mito, Dhyat, Manas, Cha, Badram, Bajatat, Adokshaje, Adokshaje, Avisyatam, Na, Matir, Api, Ahaituki Svasti, Astut, Vishvasya, Kalaha, Prasidatam, Dhyayantu, Bhutani, Sivan, Mito, 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 Dhyay Manas, Cha, Badram, Bajatat, Adokshaje, Avisyatam, Namat, Sas, Mito, Dhyayantu, Bhutani, Sivan, Mito, Dhyayatu, Diyan tu bhutanis hivamhito ya Manascha badram vajatat atuk saje Namascha badram vajatat atuk saje Tavishatam namater apyahaitu ki Svastyastu vishvasya kalaprasi datam Diyan tu bhutanis hivamhito ya Diyan tu bhutanis hivamhito ya Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie per la visione! Gli invidiosi, cioè quasi tutti, prasidatam che siano tranquillizzati, diayantu che essi considerino, bhutani tutti gli esseri viventi, shivam fortuna, mitaha reciproca, dia con la loro intelligenza. Manaha, la mente, cha, e, badram, tranquillità, bhajatat, che sperimentin, adokshaje, dio la persona suprema, che è oltre la percezione della mente, dell'intelligenza e dei sensi. Avishatam, che siano sorti, naha, nostra, mati, intelligenza, api, in verità, ahaituki, senza alcuna motivazione. Quindi adesso sappiamo che shivam significa fortuna. Di buon auspicio, shiva. Traduzione. Traduzione. Per il servizio di devozione penseranno al loro bene reciproco. Impegniamoci dunque tutti nel servizio della trascendenza suprema, Shri Krishna, e che i nostri pensieri rimangano costantemente assorti nella sua persona. Spiegazione di Shri Krishna Prabhupar. Il verso seguente descrive il Vaishnava. Simile a un albero dei desideri, il Vaishnava può appagare i desideri di chiunque trovi di fuggio ai suoi piedi di loto. A questo proposito, Pralatmaraj costituisce un esempio tipico di Vaishnava. Egli non pregava per se stesso, ma per tutti gli esseri viventi, buoni, gli invidiosi e i malvagi. Pensava sempre al bene di esseri malvagi come suo padre, Irani Akashipo. Pralatmaraj non chiese niente per sé. Pregò piuttosto il Signore di accordare il suo perdono al padre, demoniaco. Questo è l'atteggiamento degno di un Vaishnava che medita continuamente sul benessere di tutto l'universo. Fermiamoci un attimo qui. La spiegazione è molto lunga. La affrontiamo un pezzettino alla volta. Quindi, qui nella traduzione leggiamo... Scusate, no, devo fare gli omaggi al mio maestro spirituale. Offro i miei rispettosi omaggi al mio maestro spirituale che mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. E siccome sono nata nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, come la maggior parte delle anime di cui si sta parlando in questo verso, per purificarmi devo evidentemente anche passare attraverso delle prove di sofferenza. Perché quando Pralatmaraj prega per suo padre, Irani Akashipo, prega per il suo ebbene più alto ovviamente. Non prega Krishna, Signore ti prego, aiutalo a gratificarsi più che può. Pralatmaraj prega Krishna affinché questo demone, questa persona dalla mentalità demoniaca, si purifichi. Perché il suo bene più elevato è oltre quella purificazione. Deve passare attraverso quella prova per potersi purificare. Altrimenti, quel fuoco, no? Il fuoco della purificazione. Quindi, Irani Akashipo passa attraverso un fuoco molto pesante di purificazione. Perché addirittura viene in Arashenga a cederlo. In quel modo così cruento, no? Quindi una prova molto cruenta quella di Irani Akashipo. Ci sono situazioni così tamasiche, così piene di ignoranza, che devono essere purificate attraverso delle prove anche cruente. È per questo che poi esistono delle situazioni molto cruente sul nostro pianeta, soprattutto in Kali Yuga. Ci sono delle situazioni violentissime, molto efferate, atroci, perché le prove sono commisurate al tamaguna, al grado di tamas, no? Laddove ci troviamo di fronte a situazioni molto gravi, macabre anche, vuol dire che il tamaguna è molto forte, molto pregnante, pesante. Quindi Irani Akashipo ha dovuto avere una purificazione molto pesante perché era un grande demone. Lo Shrima Bhagavatam e il Bhagavata Dharma sono destinati alle persone pienamente libere dall'invidia. Parama nirmatsaranam. Mazzaria è l'invidia, nirmatsaranam è senza invidia. Quindi ovviamente sappiamo che lo Shrima Bhagavatam e il Bhagavata Dharma sono per i Paramahamsa, per le grandi anime. Sono destinati essenzialmente a loro, nel senso che li fanno gustare. I puri devoti gustano il Bhagavata Dharma, lo Shrima Bhagavatam, pienamente. Per loro è una forma di estasi leggere lo Shrima Bhagavatam, praticare il servizio di devozione. Per noi invece al nostro livello è una purificazione. Quindi in questo senso è destinato anche a noi. Oggi parleremo di questi tre livelli, no? Sambanda, Abhidea e Prayogana. Quindi queste scritture possono essere percepite come il servizio devozionale a diversi livelli. Secondo che noi siamo situati nel Sambanda, nella Videa o nel Prayogana, con la nostra coscienza. Sambanda è l'inizio, proprio lo stadio iniziale di purificazione. e Abhidea è il percorso di purificazione. Noi entriamo nella purificazione e cominciamo questo percorso. Prayogana è il traguardo della purificazione, cioè l'amore per Dio. Quindi i Paramanza percepiscono così le scritture e il servizio devozionale sul livello del Prayogana. Perciò il Pradal Maraj prega qui che tutti gli invidiosi siano rappacificati, kalaprasidatam. L'universo materiale è pieno di persone invidiose, ma colui che giunge a liberarsi dall'invidia diventa magnanimo nei suoi rapporti sociali, qualora pensare al bene altrui. Uno può dire, vabbè, allora posso anche manifestare la mia invidia in quest'altro modo, celarla, travestirla. Siccome comunque la purificazione deve passare anche attraverso prove molto cruente, io posso pregare per il bene altrui, in qualche modo anche saziare la mia invidia sapendo che quella persona comunque dovrà soffrire per purificarsi. Queste sono cose molto sottili che bisogna curare con grande attenzione perché poi si fa un'offese. Ci sono le Vaishnava Parad ma ci sono anche le Janna Parad, le Parad fatte alle persone in generale, anche i non devoti. Quindi, e che poi hanno delle ripercussioni, le Janna Parad facilmente diventano Vaishnava Parad. Cioè, quel vizio di base viene trasportato anche nel servizio devozionale e si pagano anche le offese ai non devoti, in una certa misura, ma quelli ai devoti sono pesantissimi. Dunque, se noi non curiamo Janna Parad e poi facciamo Vaishnava Parad, abbiamo un problema grosso. Per cui, il problema va risolto alla radice. Niente Janna Parad. Nel momento in cui noi scoviamo, sorprendiamo la nostra mente che si gratifica al pensiero che qualcuno si debba purificare anche attraverso prove molto pesanti, e beh, lì dobbiamo subito cantare alle Krishna, inginocchiarci, fare gli omaggi, chiedere a Krishna, ti prego aiutami ad avere l'attitudine giusta. Se io non riesco a pensare agli altri in maniera positiva, allora meglio se evito di pensare agli altri, meglio che penso a me stessa, alla mia purificazione, che mi immergono in un qualsiasi servizio, anche proprio super pratico, se questo in qualche modo fa scendere la mia coscienza alla pianeta. Quindi sono cose molto sottili che bisogna curare con attenzione. Chiunque adotti la coscienza di Krishna si immerga completamente nel servizio del Signore, allontana ogni invidia dalla sua mente. L'abbiamo appena detto. Se ci immergiamo completamente nel servizio, che cosa succede? Che la mente tace. Siccome noi non le diamo ascolto, lei sta zitta. Se uno parla e gli altri non ascolta, ad un certo punto sta zitto. La mente fa così. Quindi dobbiamo zittirla in questo modo, impegnandoci nel servizio di devozione. Non accalendoci con la mente. Stai zitta. Perché lei poi pungola ancora di più. La portiamo con noi, la impegniamo nel servizio di devozione. Manas Chabadran Bajatat Adokshaje. Dobbiamo dunque pregare Shri Narashingadev di risiedere nel nostro cuore. Bahir Neshingori Bahir Neshingori Daien Neshingori Perché? Perché lui pulisce questo male sottile dell'invidia. Posso a Shri Narashingadev dimorare nel più profondo del mio cuore e distruggere tutte le mie cattive tendenze. Che la mia mente si purifichi in modo che io possa adorare serenamente il Signore e portare la pace al mondo intero. Perché poi al di là di noi c'è un bene più alto. Noi siamo abituati a pensare al nostro bene. Ma c'è un bene più alto che va oltre noi oltre le nostre emozioni oltre i nostri sentimenti oltre i nostri attaccamenti che sono meschini. Sono piccini e sono meschini. Noi dobbiamo concentrarci su questo bene più alto che è il bene per tutti. Quindi allargare la nostra visione e ampliare le nostre aspirazioni. Questo è importante. Shila Pishvanacca Kravarti Takur ci ha lasciato a questo proposito un meraviglioso commento e gli spiega che ogni volta che rivolgiamo una preghiera a Dio la Persona Suprema gli domandiamo qualche benedizione. Anche i puri devoti Niskama implorano da lui alcune benedizioni come Shri Chitanya Mapra l'unico insegnato nel suo Shri Chitanya Mapra Io sono il tuo servitore eterno O Krishna, figlio di Nanda Maharaj Eppure per qualche ragione sono caduto nell'oceano dell'esistenza materiale. Ti prego dunque sottraimi a queste onde di nascita e morte e trasformami in un atomo di polvere ai tuoi piedi di lodo. In un'altra preghiera Shri Chitanya dichiara O Signore, concedimi di immergermi senza fine vita dopo vita nel servizio d'amore puro e assoluto ai tuoi piedi di lodo. Qui siamo proprio al pinnacolo della pura devozione perché vita dopo vita cioè non si chiede neanche più di liberarsi dal ciclo di nascita e morte ma si chiede semplicemente di essere impegnati in servizio devozionale perché noi sappiamo che in ultima analisi la materia è spirito e che il puro devoto non vede differenza tra la materia e lo spirito le vede completamente compenetrate uno nell'altra e si impegna perfettamente nel servizio di devozione. Abbiamo degli esempi anche abbastanza importanti nella cristianità anche nella cristianità del fatto che lo spirito e la materia alla fine si compenetrano per esempio il corpo di santa Bernadette che era santa di Lourdes è rimasto incorrotto è rimasto incorrotto è lì così non c'è più lei lì l'anima è andata via da quel corpo ma era talmente spiritualizzato quel corpo lì è stato talmente benedetto dall'energia interna dall'energia spirituale che è rimasto incorrotto praticamente la luce del Brahman che compone quel corpo si è liberato dai Guna si è liberata dai Guna i Paramanu non filtrano più i Guna in quel corpo lì e manifestano quell'aspetto esterno del corpo senza rimanerne in alto modo influenzati quindi cioè la luce del Brahman sappiamo che non rimane mai influenzata però può ritirarsi da un corpo quando un corpo quando un'anima lascia il corpo cosa succede al corpo? si scurisce perché la luce se ne va se ne va la luce dell'anima che lo abitava che pure è luminosa ma se ne vanno anche gli atomi di luce del Brahman da quel corpo lì per cui quel corpo si decompone perde tutta la luce quel corpo perde lo spirito quindi questo accade invece in un corpo che rimane incorrotto la luce rimane lì non che la luce dell'anima è lì Bernadette è andata via da quel corpo ma rimane la luce del Brahman che è libera di rimanere o non rimanere? Krishna è libero di decidere se quella luce debba rimanere nel corpo oppure no ma di fatto può succedere perché un corpo si spiritualizza completamente e allora ci sono questi fenomeni bellissimi che ci dimostrano che noi possiamo anche all'interno del corpo materiale essere completamente liberati liberarci all'interno del corpo materiale non sentire più l'influsso dei Guna essere situati nel perfetto Bhakti Yoga quando Pralatmaraj pronuncia la preghiera om namo bhagvate narashingaya implora una benedizione dal Signore ma poiché è un Vashnava molto elevato non desidera niente per la propria soddisfazione personale il primo desiderio formulato nella sua preghiera mira infatti alla felicità dell'universo intero swastya stu visvastya Pralatmaraj chiede così al Signore dimostrarsi misericordioso verso tutti compreso suo padre un essere tra i più invidiosi secondo Chanakya Pandit esistono due tipi di esseri invidiosi il serpente e l'uomo simile a Irani Akashipu per natura invidioso di tutti anche del padre o del figlio Irani Akashipu era invidioso del suo piccolo figlio Pralat ma questi implorò dal Signore una benedizione in favore del padre Irani Akashipu provava una violenta invidia per i devoti ma Pralat desiderava che lui e gli altri esseri demoniaci della sua specie abbandonassero la loro natura invidiosa per la grazia del Signore e smettessero di tormentare i devoti Kala Prasidatam il problema è che gli esseri invidiosi Kala possono difficilmente essere addolciti uno dei due tipi di Kala cioè il serpente può essere calmato col semplice canto di alcuni mantra o con l'azione di una particolare erba mantrausadi vasasarpakalakinanibariate invece l'uomo invidioso non può essere calmato in alcun modo Pralat Marash prega dunque che il cuore di tutti gli invidiosi subisca un cambiamento profondo in modo che possano pensare al bene altrui c'è proprio una rete che si crea all'interno della coscienza di una persona che pratica l'invidia in genere poi una persona che pratica l'invidia la predica anche quindi si irretisce ancora di più perché crea intorno a sé un reticolo di invidia perciò la sua rete è all'interno ma anche all'esterno è irredito dappertutto l'uomo invidioso ed è molto difficile che riesca a venire fuori da questa rete perché è tutto garbugliato ci sono i pesi delle cattiverie degli errori gli errori pesano molto sulla coscienza impediscono di fare un passo positivo un passo verso l'uscita da questa situazione come quando noi abbiamo una palla al piede vogliamo camminare non possiamo camminare perché abbiamo la palla al piede e quindi quei pesi sulla coscienza impediscono di andare con la coscienza verso l'uscita da quella situazione che sono pesi molto pesanti quindi la persona invidiosa ha bisogno di tanta misericordia anche proprio in forme pesanti perché quanto più la malattia è pesante tanto più la terapia deve essere pesante ci vuole la terapia d'urto per una malattia forte e quindi quando la malattia dell'invidia è forte la terapia deve essere altrettanto forte altrimenti non serve a niente ovviamente stiamo parlando di Rania Kashipo che è un grande demone i demoni del Kali Yuga sono demonietti nonostante questo succedono anche delle cose molto brutte se il movimento per la coscienza di Krishna si diffonde in tutto il mondo e se per la grazia di Krishna tutti gli uomini l'accettano la mentalità degli invidiosi cambierà ognuno sarà in grado di pensare al bene altrui perciò Pradmaraj prega Shiva mitodia nell'ambito dell'attività materiale tutti nutrono invidia ma nella coscienza di Krishna nessuno invidia un'altra persona ognuno pensa invece al bene altrui anche perché poi il devoto per quanto neofita possa essere ha sempre una soddisfazione in se stesso e più avanza più si sente soddisfatto in se stesso perché il suo rapporto con Krishna cresce e quel rapporto è talmente speciale talmente bello unico e soprattutto inconcepibile incredibile che praticamente il devoto sente una soddisfazione in se stesso tale che gli permette di non invidiare più nessuno e di pensare al bene altrui questo è il segreto del bhakti yoga che ci si sente tranquilli sereni pacifici Krishna è il mio signore colui che mi protegge mi difende mi riscatta mi aiuta mi impegna rende la mia vita luminosa e serena piena di bellissime attività spirituali e mi permette anche di poter trasmettere in un certo modo in una certa misura anche agli altri questa mia soddisfazione interiore quando poi addirittura non manifesta certe opulenze anche agli altri attraverso il mio servizio allora lì c'è proprio una grande realizzazione e ci si sente sempre ancora più soddisfatti aumenta la fede pralat maraj prega dunque affinché la mente di tutti si volga verso il bene fissandosi ai piedi di roto di Krishna bhajatat ad okshaje lo shima al bhagavatam insegna in un altro passo savai mana Krishna padaravindaya vacham si vaikuntagunanuvarnane karo harer mandira marjanadishu shrutim chakaraccuta sat katodaye questo è ambarishamaraj che impegnava tutti i sensi al servizio del signore e shrutim chakaraccuta sat katodaye che bello lo shrutim la capacità di ascoltare nella katodaye nella Krishna katà sat katodaye nella katà eterna non ascoltava niente che fosse la sat ambarishamaraj ascoltava solo tutto quello che era sat e il signore in persona raccomanda nella bhagavadghita manmana bhava marbato maddiyajim mamna maschuru mamme paschas satiam tu pratigiani si come dice pratigiani priosime ok pensa sempre a me diventa mio devoto adorami e offrimi i tuoi omaggi così certamente verrai a me quindi Krishna raccomanda che si deve continuamente meditare sui piedi di loto di Shri Krishna possiamo allora avere la certezza che la nostra mente sarà purificata cetodarpana marjana ceto cetana cetanya cetanya significa vita la vita dell'animo cetanya è la vita dell'animo quindi ceto si riferisce proprio a quella mente profonda che corrisponde al soffio vitale proprio alla vita dell'animo il cuore i materialisti pensano sempre alla gratificazione dei sensi ma pralag maraj prega affinché la misericordia del signore trasformi la loro mente ed essi cessino così di meditare sulla loro soddisfazione personale se meditano su krishna in modo ininterrotto tutto andrà per il meglio alcuni sostengono che se tutti pensassero a krishna l'universo intero si svuoterebbe perché tutti gli esseri tornerebbero a dio nella dimora originale ma shila vishvanach akravartita kur dichiara che questa è una cosa impossibile perché il numero degli esseri è infinito anche se tutta la popolazione dell'universo fosse effettivamente liberata dal movimento per la coscienza di krishna altri esseri viventi verrebbero a popolarlo di nuovo ma anche perché su un livello diciamo più profondo di comprensione di questa conoscenza noi sappiamo che e l'abbiamo appena detto con lo Shikshastakam di Chetanya Mahatrabhu il tero mondo materiale può essere anche popolato di puri devoti nel senso che il mondo materiale non è in ultima analisi fatto per la gratificazione dei sensi e la correzione delle anime condizionate in ultima analisi esiste per i divertimenti di Krishna e questo lo leggeremo nell'ottavo canto quando la moglie di Bali Maraj prega Vamanadeva di liberare suo marito che era lì sotto schiacciato dal piede di Vamanadeva dicendo tra le tante cose che dice a Vamanadeva mio marito è un illuso era un illuso lui si illudeva che questo universo potesse essere fatto per la sua soddisfazione invece questo universo esiste per i tuoi divertimenti per il tuo divertimento per il tuo piacere quindi non è che l'energia esterna è e la sua manifestazione è è monopolio dell'anima delle anime condizionate cioè se ci sono delle anime condizionate manifesto l'energia esterna altrimenti non la manifesto dice Krishna no l'energia esterna esiste a prescindere dai problemi individuali di un'anima condizionata esiste per il divertimento di Krishna ora però non bisogna confondere nel senso che Krishna non si diverte a vedere le anime condizionate che soffrono non è questo il suo divertimento il problema dell'anima condizionata è che vuole prendere il posto di Krishna e quindi pensa che il mondo materiale sia fatto per il suo divertimento questo è il problema ma se l'anima non pensa così se ritorna alla sua posizione originale e mette tutto al servizio di Krishna vive nella creazione di Krishna come devota come servitrice allora si riposiziona e si libera e si placa e non soffre più perché anche il suo corpo si spiritualizza e diventa completamente trascendentale hai una alle sofferenze del corpo della mente un puro devoto non ha i problemi che ha una riva condizionata anche quando è in un corpo materiale vediamo per esempio Dhruvamaraj Dhruvamaraj se ne va nel mondo spirituale nel corpo materiale che significa che torna nel mondo spirituale mirguna con un corpo materiale formato dai guna no significa che quel corpo si si fonde va a fondersi gradualmente negli elementi ma senza quel fenomeno chiamato morte e questo è più facilmente comprensibile se noi vediamo come lasciano nel corpo gli esseri celesti lì non c'è la morte come c'è qui su questo pianeta o sui pianeti terrestri in generale la morte avviene in modo sottile e c'è la ghirlanda di fiori che gli esseri celesti indossano tutta la loro vita e questa ghirlanda è sempre fresca a un certo punto appassisce e lì vuol dire che si è finita è finita la facchia e quindi devono tornare giù a meno che non si siano elevati al punto di andare su a quel punto anche loro vengono sopravvestiti come dice la Bibbia il corpo materiale viene sopravvestito di energia spirituale per cui praticamente non c'è quel fenomeno chiamato morte non c'è più quella percezione di sofferenza nel lasciare un corpo perché c'è ormai una coscienza talmente fine talmente leggera che naturalmente vola verso l'alto è la coscienza che trasporta il corpo verso l'altro come col santo Tukaram Tukaram è un altro santo Vaishnava che se ne è andato così è salito al cielo praticamente alle braccia così la sua crescenza era talmente leggera che se ne è trasportato su il suo corpo materiale quindi abbiamo questi esempi anche nel Vaishnavismo perché alla fine ed è spiegato lo leggiamo ogni tanto nelle scritture che per il puro devoto non c'è differenza tra lo spirito e la materia non c'è più questa differenza perché il puro devoto è situato nella sua coscienza originale e quindi per misericordia di Krishna non ha più quella percezione distorta separata questo è l'ultimo chatushlokhi della Bhagavad Gita e dice con la torcia della conoscenza io illumino anche l'ultimo baronome di ignoranza che si trova all'interno del cuore del mio puro devoto e quindi il cuore del puro devoto è pieno di luce ovviamente questa luce così preponderante si diffonderà anche a tutto il corpo e quindi il corpo diventerà luminoso si riempirà della luce spirituale più noi ci purifichiamo più il nostro corpo si illumina la prima cosa che notiamo in una persona che diventa devota qual è? la luminosità comincia a emanare una luce che prima non aveva e più la sua coscienza si purifica più si illumina ricordo nella Lilamrita c'è scritto che alcuni ragazzi videro che poi divennero devoti videro Prabhupada e videro proprio la sua aura luminosa glowing dice glow questa luminosità questa radiosità che emanava dal suo corpo i puri devoti sono così pieni di luce e quindi non c'è bisogno alla fine dei conti di ritornare a vaicunta nel senso materiale del termine perché un devoto che serve il signore con il corpo la mente le parole è già vai punto è già lì Arjuna è un eterno compagno di Krishna nel mondo materiale svolge i suoi passatempi nel mondo materiale con Krishna eternamente quindi è solo una questione di visione di coscienza di dove ci situiamo noi con la coscienza ok sono le otto e un quarto quindi mi fermo qui volete dire qualcosa tutto a posto già tutte le glorie a Shila Prabhupar oggi pomeriggio alle 6 alla libreria Arion in via Kavur numero 255 ci sarà la presentazione della Bhagavad Gita è venuta fuori la nuova edizione riveduta e corretta ma i contenuti sono sempre ovviamente gli stessi e siamo molto contenti di poterla presentare perché è l'essenza di tutte le scritture vediche è Krishna stesso che parla e dopo la presentazione in cui parleremo delle cinque verità fondamentali presentate dalla Bhagavad Gita e dei tre livelli di comprensione della Bhagavad Gita cioè Sambanda Avideya e Prajujana avremo un rinfresco di Prasada e ci sarà anche la diretta in streaming dalle 5 dalle 17 in poi se volete collegarvi glorifichiamo insieme Shila Prabhupar Jai Jai Hare Krishna buona giornata a tutti e arrivo a tutti